Sono quattro le persone denunciate per aver sottratto cavi di proprietà della Telecom. Si tratta di pregiudicati tutti di nazionalità rumena, ovvero una donna di 32 anni residente a Caltanissetta e tre uomini di 20, 28 e 30 anni residenti a Canicattì, tutti accusati di furto aggravato in concorso, uno anche per violazione del divieto di far ritorno nel comune di Caltanissetta e un altro per porto ingiustificato di Grimaldelli e Arnesi atti allo scasso. Nello specifico, intorno alla mezzanotte a seguito di segnalazione di autosospette avvistate in contrada a Pescazzo, due volanti si sono recate in zona dove nell'ultimo periodo si sono verificati i continui furti di cavi della linea elettrica e telefonica che hanno causato numerosi guasti e interruzioni dei servizi. Nel corso del pattugliamento, gli agenti hanno raccolto indicazioni da parte di alcuni residenti circa i passaggi dell'auto sospetta, con a bordo quattro persone, constatando l'ammanco di oltre 1.500 metri di linea telefonica. Diramata la nota di ricerca dell'auto, la stessa è stata poi trovata in prossimità dell'ingresso della città. Dalla perquisizione eseguita sul mezzo, i poliziotti hanno sequestrato una mazza da baseball, quattro paia di guanti da lavoro, una tronchese, una mazzotta e due torce elettriche, materiale inequivocabilmente utilizzato per tranciare i cavi. Gli agenti, all'interno di un capanno in lamiera, ubicato nelle vicinanze immediate del luogo del furto, hanno trovato 500 metri di cavi di rame di proprietà della Telecom riconsegnati all'azienda. Nei confronti dei tre residenti a Canicattì, il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune Nisseno per tre anni.